Vediamo, vieni qui, gira la schiena verso di noi, vediamo, unisci i piedi, ok, vediamo lui, puoi anche vedere che questo è un po' più alto, non è male però, vediamo, chiudi gli occhi, ok, si dondolo un po' più a sinistra, vediamo, facciamo un piccolo challenge, faccio così, chiudi gli occhi ancora, ok, vediamo, sediti qui Alberto verso di me, sei sposata, i bimbi, cosa è la tua storia? Ho una fidanzata che vive qui a Milano, per questo torno spesso, tra l'altro la incontrerai a breve come prossimo paziente. Vivete insieme o no? No, no, io vivo, sono fisso a Monaco e ci vediamo bene o male una volta al mese. Poi quello fa per un reporter favoloso, ok, vediamo, vai pancia in su, la testa qui, adesso controliamo un po' il suo cervicale, un pochino più giù, ok, sì, un pochino si sente qui che è un po' bloccato, ma non è male, ok, vai pancia in giù, la tua cura chirurgica sta funzionando, vediamo, lascia le mani giù così, ok, va sì, qui è un po' diverso, è un po' più bloccato, soprattutto in queste zone qui, hai un po' di dolore quando spingo qui? No, forse più fastidio che dolore. Ok, è un pochino un po' bloccato qui un po', sì, un po' di fastidio se tocco qui, ok, ok, adesso giusto da questa, metto le mani giù, se puoi venire un po' più giù, benissimo, sentirei un piccolo cric crac, ormai sei un veterano, inspira profondo, fuori, bravissimo, ecco, ecco, ok, vediamo, gira sul fianco destro verso di me, su questa parte, e cosa piace di Germania? Mi piace la cultura lavorativa che c'è in Germania. Ah, sono molto precisi, lavoro diretto, efficiente, ok, anche qui sentirei cric crac, ok, dall'altra parte, pensi di trasferirti là per come vivere o? No, per ora è un'etapa temporanea, ok, ho notato che non hai detto niente del cibo fantastico in Germania, so, un po' meno fantastico dell'Italia, esattamente. Se non ti piace il crac, pancia in su. E su, colla abbastanza bene, c'è solo una cosina qui, ok, lascia libera, ecco, bravo, ok, ragazzo, è quasi perfetto, sediti su. Ok, stai in piedi, gira la schiena verso di me, se dovesse avere tanti pazienti come lui, devo andare in pensione, unisci i piedi, gira la schiena verso di qui, ok, se anche questo è un po' più uguale adesso, chiudi gli occhi, anche stare, benissimo, a posto. Grazie. Grazie. Grazie.